ciao a tutti noi abbiamo il lego il lego? no non è un lego non è un lego che si attacca ti devi mai preso quei pezzi ah sono quelli che ti hanno preso la lidl eh tondii tondii quelle geometriche quanti pezzi ti sono? 50 pezzi? è da 1 a 5 anni ma non puoi giocare ma io tu puoi giocare io si ho 4 anni non è vero hai nessuno ancora io ne ho 22 vi siete spesa e allora comunque non hai 4 vabbè noi giochiamo lo stesso dai che divertente giochiamoci su che li apriamo ormai simone è il nostro presentatore di giocattoli eh no te lo devi guadagnare pietra chi fa il gioco più bello e la prossima volta presenta un giocattolo eh noi la prossima volta ho portato il gioco del tomele faccio vediamo chi fa la costruzione più bella io vedo si aiutami simone alberta tutti i cuori allora un minuto di silenzio pronti via eh ma dai vado per fregato tipo aiuto te ciao non è ma dai ah mi fa non hai vinto devi costruire anche te ma io mi devo portare come hai vedere tutti i pezzi prima ma io mi devo costruire ma io mi devo costruire mi devo costruire sì ma possiamo lasciare io mi devo costruire ah i pezzi sono di tutti uniti ora è che vabbè ma è il me me ma è il mio 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 bene io posso fare la più grande del mondo mi mi trovo e per te hm io sto facendo le sedie da mella io ho fatto un bel castello i castelli sono più alti io anche li devo fare? sì mi serve un altro di questo quello ti serve? o quello è il fluido blu ti serve? è la sedia è la sedia è no è no è il vento è la bestia uh le donne ah ora si che è grande guarda mi ci sono la testa sono sotto il tuo potere questa è una piccola torre come faccio? c'è uno spazio minuncolo questa è un'altra torre la mia è quasi infinita la mia è infinita la mia è infinita guardate che è bello non è più bella no è più bella la mia ora dobbiamo vedere non è più bella la mia vediamo che cos'è vediamo come cosa costruisce come costruisce e vediamo cosa altro posso fare ah questa è una doppia torre ehi salva ehi non lo metti ah così ecco guardate tutte le costruzioni la mia quella di simone e quella di pietro la mia non è più rappresenta i due troni i due troni ma tu che cosa rappresenta? un castello un castello molto particolare mi ricorda quello di Cusco adesso lo vedete l'imperatore eh quello no e questo invece è un'antichità romana e questo è il cespuglio di miloni ah allora bambini qua sotto votate è il cespuglio di ehi ti ho visto sai ah ah no no oh inolativo allora bambini qua sotto votate la figura che vi è piaciuta di più scrivete se preferite quella di simone quella di pietro la mia ti vediamo al prossimo video ciao cuglio ciao 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 guardate oggi figlio che ho facciato l'ambulanza aspettate vediamo le costruzioni perchè dopo ci sarà un video speciale ma questo che ho portato io ho cavato io cosa hai cavato? non lo vediamo dopo perchè prima volevo farvi vedere la cilina che ho costruito io dei cappottabili Simone appena è distrutto e appena è rifatto ma facciamo qualcos'altro? questa l'abbiamo fatta scusate guarda 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 cosa cosa? ma scusatemi eh scusatemi smontiamo le facciamo qualcosa tutti insieme cosa costruiamo? vediamo dai proviamoci ma Simone non mi aiuti? smontiamo tutto bravo io vi passo dei pezzi con il mio camion va bene l'ambulanza non ha fatto qualcosa di buono sei curioso? sei che tra poco copriamo l'ambulanza e vediamo cosa ci ha portato sai quante sorprese? quante sorprese bellissime io non riesco a cavare oh abbiamo cavato aiuto aiuto dai aiutaci Pietro ci da fastidio aiutaci dai no ci dai una mano che antipatico io? no no non riesco a cavare dai allora cosa fai? ah mi suoni? scemo che sei scemino dopo scemo 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 guarda non riesco a cavare un buponcello tuo fratello è un buponcello lo sai? e ora cosa facciamo? cosa costruiamo? dai vieni dai vieni cosa costruiamo tutti insieme? ah io sto venendo no vieni qua da me qui cosa costruiamo tutti insieme? vieni 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 sei capace? io si ah allora passi la mano come facciamo? guarda abbiamo smontato questi pezzi mi ha smontato ancora? si no no basta così? si poi cosa lo facciamo? adesso io ti vengo contro vai c'è la nuova piano piano si mamma mia guarda guarda chi è che vince? Lidl no ahah ahah oh ahah eh no adesso non sceglie dai costruimo qualcosa dai 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 concettiamoci che stiamo qualcosa no adesso vado un po' allora devi tenere conto che questa qua è la cabana si? è la cabana da parla taglio basta faccio quel tetto ora lo mettiamo in quest'auto super bellissima questo è l'aereo guarda ma perché tira una mano io la tengo io la tengo vai io la tengo e tu la vedi bella volta di squadra eh si ma ho sette note ecco bene me l'ho messo io continuo ad andare e ora devo tenerlo fermo con questo morsetto? si un tubullone ma ora io sono più veloce e poi? siamo più veloce poi? devi tenere conto che quello lì è il tetto ok e quindi adesso? guarda ma perché? dai Simone vieni a costruire con noi ah 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 una volta meravigliosa sicura non essere così pessimista bravo pessimista io sono le musci ciao ma dove vai? super fattico incitiamolo sono dentro come un cazzo vediamo intanto io prendo la vita che mi è caduta che è? la mia macchina è pronta? no ho fatto i miei trecchi guarda ho fatto un dolce dove ti lasciare? mi ha voluto anche a me guarda si sveglia così dov'è quella città? bravo dove ero quella città? ah devo sono molto intelligente del mondo ho fatto un ambo com'è? è buona è buona vediamo se tu sei buona un mortetto dai uno piccolino piccolino no lui va in gita si in gita si in gita con l'ambulio vuoi vedere? sei una malata che vuole venire da noi vediamo cosa ci ha portato dai noi cosa vi ho portato? io cosa ci ha portato tu? allora chi ha fame? Simone c'è l'ambulio chi ha fame? io allora io mando questi due occhi non fai dove ero io ma ho chi? aspetta fanno vedere tu li dai io ma cosa sono? guarda questo qua uno come sono? anche quel colore il colore rosso dammi lo giuro allora io voglio quello ma da chi li hai staccati? da me da chi li hai staccati? come va? li asciagano? oh si ma non mangio a chi mani io si ma sono manco mani non va sono di un cane quindi ve li aprite ma questo che cosa dovrebbe essere? eh questo cosa sarebbe il capo e capo e poi dovrebbe stare come questo ma sapete cosa mi sembra? si mi sembra? oh è tipo gelatina si è tipo gelatina è tipo gelatina oh oddio si mandano gli occhi non posso guardare ciao bambini al prossimo video ciao